Buongiorno a tutti, buon mercoledì a tutti e buone feste a tutti Idoneo, idoneo alla prima prova esito teoria Prima prova esito teoria idoneo 27.12.2017 Logo esame 660, codice esame HGA, HGW Dagli tutta, dagli Idoneo, idoneo, mamma mia Dopo tanto sacrificio, perché nella vita ci vanno determinazione, sacrificio, forza e volontà, sudore, costanza e tenacia in tutte le cose Quando c'è un obiettivo lo si affronta, quando c'è l'obiettivo si fa tutto pur di ottenerlo Tutto, non bisogna mai abbattersi, mai arrendersi Non bisogna mai abbattersi, mai arrendersi Perché nella vita bisogna essere freddi, metodici e precisi Freddi, metodici e precisi